Ragazzi ho notato che nell'ultimo video dove ho spiegato il cambio nome su youtube chiedendovi di mettere like ne avete messi davvero tanti e questa cosa mi ha reso davvero felice quindi mi piacerebbe che lo metteste anche su quest'altro video e anche su tutti i prossimi video. Poi volevo dire non vi metterò di questa promo gli altri video uncut e capirete perché guardate questo video e capirete subito perché ma penso di non farlo neanche con la prossima promo perché alla fine era un test e ho visto che ci c'è a chi piace ma comunque il mio canale è cresciuto con dei video non uncut e quindi preferirei tenere lì così. Certo ne caricherò di uncut tranquilli per chi li vuole ne caricherò pochi ma ne caricherò ma voglio ancora restare sui video editati ecco. Ecco cosa vedrete in questo video c'è il 2k 17 tutti gli che dicono oh mio dio gli addicari fanno schifo e ne abbiamo 4 in squadra va bene. Atrox oh mio dio se non sbaglio anche l'anno scorso era così in un game c'era un bell'atrox in squadra Darius va bene lo stesso. Giusto in tempo oddio dai un minion ho perso l'esperienza l'ho persa del secondo. Il cavo era un po' mollo non so perché si è staccato proprio mentre fatto partire lo stream e non prima però l'ho tolto e l'ho rimesso in teoria funzione ho schiacciato povero Darius si povero Mokai. Oh no. Vuole exhaust? Mi dai vuole exhaust? No No Quanto togli questa? Vattene Uff Mori Maledetto Mastery Ultac Tanto il recall dovevo farlo comunque Che succede? Perché è così difficile fare uno streaming normale Alleluia Ragazzi si era staccato il cavo Ethernet E era un po' lasco il cavo L'ho staccato e dimesso e adesso funziona tutto Secondo me qua è guardata Va bene Meglio così Oh dopo essermi disconnesso Tre volte Due volte anzi Sono comunque quello messo meglio in tutto il team Cioè spiegatemi come Come è possibile Appunto Ecco il popotto Questo è il popotto ragazzi È Ripvein No 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 Scherzavo 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 Lei c'è morta però Che cu No 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 Vattene Vattene Flash a qualcosa Bravissimo Ora fuggi Quel Darius fa male Mi sfortino invece è inutilissima Da avere MF support No Sì ma non su Trash Ma perché su Trash Lissin Cosa fai L'ho uccisa Benede Io cosa faccio qui senza mana Li Don't Ult Trash Shock Blast Feirato Bravissimo Lei Posto Vedi che se non ulti Trash Magari vinciamo anche Posso passare? No C'è Darius Mamma mia ragazzi Pushate bot E io vado a mente Stiamo recuperando Dai Non andarci Perché ci va? Ma perché che non c'è una camana? Va bene dai va bene Va bene va bene Va bene È un uomo È un uomo ragazzi Concediamoglielo È un vero uomo Quellissin È un vero Lissin player Questo Uh Bellissimo Teleport Fix house lo metto comunque Perché voglio che muoia Tremendamente A posto Andiamocene Non vado perché mi uccide Mi ucciso comunque Romo che più persone uccide Meglio è Meno Baron hanno Meglio è No ok Rez è un buon pick Sì è un buon pick No mi sa che a posto della Blood Blood Tearster Faccio una Last Whisper Perché alla fine hanno Trash Ecarim E Darius Che sono tutti molto tank Dici Dici Dome Ma Ho completamente Nel senso che potrebbe Anche vincere O che semplicemente Può andarci Per poi Andarsene In modo molto poco Onorevole Sono un idiota Uh Provera Perce da Ari infatti Ok no Sto game è perso Uh 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 executed Attenzione Ace No niente Sono ancora Meat Spero che Ad i nemici Non ci sia nessuno Che mi conosce Dal game prima Così non me lo Bannano Sennò mi tocca giocare Zed Come prima Voi non l'avete visto A quel game Per fortuna Bella situation Rip e Jace Ragazzi giocherò Zed Sarà divertentissimo Fidatevi Fida Voi fidatevi Vi divertirete Tanto in questo stream Ma che taric Mid Zed fuori meta Ma voi non capite Ragazzi Adesso vedete Le planche Non è bannata Benissimo Benissimo Se ce l'ho contro Sarà come il game Di prima Che ho fatto L'ultimo game Era 91 LP Ragazzi Dovevo andare in promo E ho detto Anzi no Ero ancora Tanta LP 70 Quello che era Il penultimo game Praticamente Per andare in promo Mi hanno piccato Jace contro Ho piccato Zed Sapendo che Non sapevo usarlo Era la prima volta Che giocavo Contro le blank Ho finito 9-4 Non può andar male Fidatevi Il faker Che è in me Vincerà Zed mid Queen top E lissi in jungle Cosa può andare Stort Cosa può andare Stort La bionda colpisce La muore La pisce Ma ora i con Z Ti intimidisce Non si è accorto Che stavo Andando un po' Troppo deep Perché forse Vuol dire Che C'è momuli Mate No è worth È worth È worth È worth Non morire Momu Non morire What Ora si non è worth Peccato Se faccio 6 Prima L'uccido Quello si È che è molto Aggressivo Non so mai Se è perché C'è Wukong Vicino O se è semplicemente Il più stupido E vuole farmi W È perché C'è Wukong È però La bot Dai La bot È 0-5 Non ho fatto niente Di speciale Aia Aia Ma che danno fa Tranquillo Pugia Non lo rush What Guarda che mi ha Adoggiato tutte le Q col flash Non per dire Ma sono l'unica Nei che sta Vincendo Non per dire Oh 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 mio dio Meno male che è morto Lo stesso Guarda Che cosa ho combinato Occhio bot Ovviamente Eccolo là Eh non ho più la Q Volevi Non so Io sicuramente sto sbagliando qualcosa con Zed E ne sono certo Però Nel mio team Manca un po' di Non lo so Di kill forse Cioè che non sia bravo Non lo metto in dubbio Però Per esempio Non faccio questo Ecco Quello non lo faccio Per esempio Sono morti tutti e tre Tutti e quattro Anzi Aspetta Tac Eccola là Cosa vogliono fare Cosa vogliono Lasciateglielo Adesso a me Tocca andare E allora vogliono Andarcela Guarda Guarda Stato Non c'è comunque Pultere tutti quanti Adesso No No Proprio no Exhaustato Uh Headshot Baron stoppato Non fa danno Ha fatto tre volte La combo Con il tf E pensare che Ho fatto meno schifo Degli altri E quello è il problema E sono contro i raid Ah bello Devo praticamente Farmi l'execution Nel scrolling Subito Oppure Mi distruggerà Già il 6 No mi sforto Un support ancora Però dai Ma l'hanno fatto apposta Prendete un support serio Dai Quella trash Cioè Dai Almeno Lissin è nemico Quellissin sarà Gesucristo Sarà Gripex Sicuramente Abbiamo un certo Cloud9 Rush Hour Che in confronto Sarà Uno sputo per terra Allora c'è Edzmid Miss Fortune Abbiamo 4 carry E un allies Dimmi che team è questo Ges non lo considero Un bruise Lo considero un carry Praticamente Perché squisci come gli carry Allies Ankh Sarebbe un carry Però è AP Quindi almeno Lasciamolo un po' da parte Quindi sono 4 carry E allies jungle C'è 2k17 Tutti che dicono Oh mio dio Gli add carry Fanno schifo E noi abbiamo 4 in squadra Va bene C'è Avessero degli escape In botto Sono Ash E Miss Fortune Un cc E sono morti Senza pinga Orianna Perché? Ah no Faitata Flash preventivo Non è necessario Tanto lei perde Minion Perde vita Qui Minion Se avessi avuto Da W Sarebbe morto Quello là Col Thunderlord Falla flashare Falla flashare Vabbè Faccio schifo Perchè 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 Quello lo so Vabbotto Però vabbè E la pretendere anche Un pelino troppo Ok Ok È Stupide Niente da dire È stupide Basta Ora però Lei è il 6 Quindi Faitarla Sarà molto più difficile Con i suoi minion Là soprattutto Quindi Aspettiamo Fagli al culo E ci provo No Vabbè però Dai Era là dentro Ne bush Che Palla Taratara Tatarata Dai Faitate Così Sì Non Continuar Mi Tocca Teleportar No 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 Ha freshato Buono La uccide Beh Si è rinchiusa Là davvero Boom Infernal 3 kill Va benissimo Tuturutu Tuturutu Intanto La bot Continua Il dodge C'è Distrutta mate Distrutta Esplosa Nell'iperspazio Fucking bullshit Niente No Vabbè Trash L'ha preso Andate a fare il drago Andate a fare quel drago Cioè Non per dire Però Lissine era top E loro non hanno fatto Assolutamente niente bot Ma un minimo di movimento Per doggiarlo No Ha tirato dritto Cioè io non lo so Prova a doggiare le spell Oh ma non sanno schivare Ma non ha appena fightato Sto qua Basta ragazzi Mi sono rotto le palle Ma non sanno schivare